Le Maldive erano un vulcano. Aspetta, come è possibile che queste isole bellissime con queste spiagge bianche fossero un vulcano? Le Maldive infatti sono un atollo, un vecchio edificio vulcanico in cui alla base sono cresciuti dei coralli. A seguito di esplosioni vulcaniche o dell'erosione del vulcano, questo si è ridotto di dimensione, fino a lasciare la testimonianza della sua forma attraverso le spiagge, che sono definite piattaforme carbonatiche. Quando i coralli muoiono, essendo formati principalmente da calcio, tendono ad essere sminuzzati dall'azione delle onde, per poi diventare il materiale che va a formare le spiagge delle Maldive. In più, alcune spiagge, anche in Italia, sono di colore rosa. In questo caso la colpa è della miniacina miniacea, un piccolo organismo che costruisce gusci calcarei rosa, che poi va a finire sulle spiagge facendole diventare rosa. Quindi state attenti a pulirvi bene i piedi dalla sabbia, altrimenti all'aeroporto vi arrestano.